Siamo con Giuseppe Ruggeri, vicepresidente dell'Associazione Medici e Scrittori Italiani. Il suo ultimo libro è Volti e Maschere di Sicilia, prefazione di Felice Cavallaro, fotografie di Giuseppe Leone, un volume molto elegante per Plumedia. Ed è un terzo titolo di una trilogia sulla Sicilia, vista attraverso alcuni aspetti, diversi aspetti. E in questo caso sono Volti e Maschere di Sicilia, che è un titolo già pirandelliano. Sì, Volti e Maschere di Sicilia è una carrellata di caratteri, di temperamenti tipicamente siciliani, che però nell'accezione sciasciana sono anche caratteri metafora dell'universalità. È un Dirtismant che parte dalla lettera A e finisce con la lettera Z, quindi in ordine rigorosamente alfabetico, che è composto da appunto 21 lunghi aforismi che descrivono questi personaggi che in qualche modo incarnano quelle che potrebbero essere le tipologie predominanti dei caratteri siciliani. Sì, perché poi c'è l'elemento dell'universalità, perché poi la Sicilia diventa una sorta di metafora di un mondo in questi grandi autori. Nello stesso tempo le si è occupato anche in altri libri dei personaggi, dei luoghi, che sono altri elementi fondamentali poi di un'identità letteraria che spesso si ricostruisce. Sì, la trilogia parte nel 2016 con Incontri in Sicilia, edito da Giambra Editori, che è una raccolta di articoli, più che altro backstage, cioè ho messo insieme quello che non mi serviva per fare degli articoli e ho ricucito un po' una storia o delle storie che fanno vedere degli aspetti inediti di alcuni grandi letterati siciliani, in particolarmente Salvatore Quasimodo, Lucio Piccolo e poi ci sono dei capitoli dedicati anche a artisti diversi dai letterati, come ad esempio appunto Peppino Leone, maestro della fotografia, che viene descritto ampiamente, è un occhiolino dedicato naturalmente al nostro grande Antonello da Messina. Invece il secondo del 2020, Mirabile di Sicilia, edito da Pungitopo, Lucio Falcone, descrive luoghi naturalisticamente pregevoli della Sicilia e monumenti o strutture diciamo culturali importanti, come ad esempio la Villa dei Mostri di Bageria, la Villa Palagonia o anche il Val di Noto, riedificato dopo il terremoto del 1693 e grandioso prodigio di creatività umana dopo la catastrofe sismica di quell'anno. L'ultima battuta è quindi nella sua ricerca tra articoli, libri, diciamo il filo comune potrebbe essere forse proprio questa attenzione a questi aspetti letterari, alle sfumature poi che dominano la Sicilia. Ecco, lei che idea si è fatta in questo momento storico, appunto di questo rapporto della letteratura e quanto ancora c'è di nascosto, di inedito che si può scavando trovare? La mia idea è condensata nel titolo che ho voluto dare a un progetto che è stato rivolto alle scuole secondarie e anche all'università e che è stato presentato il 18 novembre presso la biblioteca regionale di Messina, Giacomo Longo, direttrice dottoressa Tommasa Siracusa. Insieme al professor Filippo Grasso, che è esperto in tecniche del turismo e di economia del turismo e insegnale alla nostra università, abbiamo immaginato attraverso questi tre testi un viaggio esperienziale in Sicilia che venga conto appunto di tutte queste caratteristiche affinché appunto la dimensione del viaggio sia quella della conoscenza, non soltanto di personaggi, non soltanto di luogo, ma anche e soprattutto delle tipologie e i caratteri siciliani. La sintesi è che la Sicilia è appunto un'isola sospesa, cioè una condizione, una dimensione atemporale nella quale oggi come oggi il siciliano non sa guardare al suo passato e quindi non sa costruire un futuro. Questo forse perché ancora risente dell'alone mitico in cui ha avvolto la sua isola. Questa è una condizione sicuramente legata alla sicilitudine di cui tanto parla Leonardo Sciascia, ma è anche una condizione che in questo momento, almeno a mio modesto giudizio, ci impedisce di guardare avanti.